Buonasera a Filippo Tramontana che gioca in casa Ciao Francesco, buonasera a tutti, devo andare subito con la formazione? Tra un secondo, Tiziano Cruderi, ciao Tizzi! Ciao ragazzi, forza Milan, e andiamo, e andiamo! E allora via con le formazioni, partiamo con l'Inter! Andanovic, D'Ambrosio De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Combarella, trequartista dietro Lautaro Martinez e Lukaku Lo sappiamo, l'Inter ha una formazione un po' obbligata, l'unico dubbio poteva essere Eriksen, trequartista, ma Eriksen va in panchina E poi sapete, abbiamo Skrini, Arbastoni, Young, Gagliardini, Nainggolan, indisponibili per il Covid Per fortuna recupera Sanchez, l'infortunio non è stato grave, quindi va in panchina Come risponde il Milan di Stefano Pioli, Tiziano? Il Milan, il Milan dei giovani, il Milan degli sbarbati In porta il signor Gigio Donnarumma, 21 anni, è il capitano anche Poi una difesa a quattro, da destra a sinistra, Calabria, Chier, Romagnoli e Hernández Rientra Romagnoli, centrocampo Benasser, che sì, davanti Salemacher, Cialanoglu, Leao e Ibrahimo vince L'arbitro è il signor Mariani di Aprilia e andiamo Attenzione, palla dentro per Ibra, 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 Ibra Viene messo giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Milan Viene messo giù Ibra, viene messo giù Ibra Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, rigore per il Milan Ibra, 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 Ibra. Samir! E' del gol, E' del gol, E' del gol! Goal! Slater! Ibra Imo vince! Caccia di rigore, respinto, sulla respinta, arriva Ibra e la mette dentro. E' del gol, E' del gol, E' del gol! Doddicesimo minuto, Ibra, la messa, la messa, Ibra! C'è l'enogla che apre su Leao, sulla sinistra, Leao, Leao, va sul fondo, cross in aria. Goal! Goal! Ibra, Ibra, Ibra e due! Ibra, Ibra, sale Becker, mette il cross, smarcato, arriva Ibra Imo, che è sotto misura di piatto, mette dentro, ed è 2-0. Doppietta di Ibra, doppietta di Ibra, 1-2, Inter 0, e siamo al sedicesimo. Veramente clamoroso quello che sta succedendo a San Siro, nel giro di 4 minuti, 2 gol del Milan, doppietta di Zlatan Ibraimovic. L'Inter con Kolarov, Kolarov si può spingere fino al limite dell'area di rigore, chiama palla Perisic, servito sulla corsa, cross in mezzo, Lukaku! Romelu, 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 Lukaku, sempre lui! Romelu Lukaku la riapre, Romelu Lukaku la riapre! Stavolta la fascia a sinistra fa tutto bene, sbagliano forse i giocatori del Milan a far arrivare Kolarov fino al limite dell'area. Perisic si smarca, la palla è perfetta di Kolarov sulla corsa di Perisic, cross in mezzo all'orizzontale, e questa volta in uscita Donnarumma non arriva sul pallone, Lukaku a porta vuota, deve solo spingerla dentro. 2 a 1, 2 a 1, Romelu Lukaku! Ciala, 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 cross! No! Teo, Teo, Teo! No, si va in un punto di sacco! Mina spreca molto, spreca molto! Non si inizia l'indietro, è subito a Ser! Arriva il cross, a giro Lukaku di testa! Uh! La palla fuori di fondo! Alla sinistra di Donnarumma! Lo vogliamo curare? Lo vogliamo curare? Che devastante Lukaku! Tutto solo, Romagnoli se lo dimentica! Cosa fa Brozovic? Ma cosa fai? Marcelo! Niente, vi dà il prova, il pallone perfetto per Hakimi! No! 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 Di testa davanti al portiere, dal solo la spara fuori! Che palla incredibile di Vidal per Hakimi! Non è fuori gioco perché Chessino tiene in gioco! Di testa, Hakimi cerca il pallo lontano! Donnarumma non ci può arrivare ma la palla va fuori! Perfetta, perfetta! Che palla di Vidal ragazzi! Geniale, geniale! Vorrei vedere! Dai Cristian! Dai! Dai Cristian! Questo fa la pera! Filippo, se te lo dico io! Lukaku! Lukaku, rigore! E si, ci sarà sicuramente l'intervento del... Nelle gambe la... Come è a matare? Fuori gioco Lukaku! Due metri oltre! Gli ha passato a chi? Gli ha passato a chi? Gli ha passato a chi? Gli ha fischiato... Doveva fischiare prima del passaggio perché era in posizione di fuori gioco! No, ma ascoltami tizi! La palla non gliela ha dato a Lukaku! Fuori gioco! L'arbitro... Ma puoi dire la mia o... Ci mancherebbe altro la tua idea? Io rispetto tutti! Ricordati! No, mi fai parlare! Non mi fai parlare! Ti dico la mia e poi... Ti dici la tua! Hai detto la tua! Posso dire la mia? Puoi dire quello che vuoi! Puoi dire! Grazie! Poteva non dare il rigore! La palla non gliela dà Ericsson! La palla gliela dà chi ha... Secondo me e anche secondo Mauro poteva non dare il rigore!